Salvo novità dell'ultimo minuto, sarà Enrico Balderi, il nuovo coordinatore comunale carrarese del PDL. La scelta dovrebbe essere ufficializzata già in nottata dopo l'assemblea prevista in comune a Carrara alla presenza del coordinatore provinciale Jacopo Ferri e degli iscritti. Un confronto serrato che darebbe vincente il giovane consigliere di circoscrizione Carrara Centro sul consigliere comunale Gianni Ilari e sull'avvocato tributarista Marco Tognarini. I tre nominativi, tutti ex Forza Italia, lo ricordiamo erano già emersi una quindicina di giorni fa da una precedente riunione del partito e da lì qualcuno aveva avanzato le prime ipotesi su Balderi come papabile sostituto dell'ex coordinatore Claudio Vinazzani. Ma adesso anche a seguito della bufera che in questi mesi ha attanagliato il popolo delle libertà con l'uscita dal partito dei tre esponenti di Carrara prima di tutto e in cui molti hanno voluto riconoscere il motivo delle dimissioni di Vinazzani la nomina di Balderi potrebbe segnare l'apertura di un nuovo capitolo per il PDL.